La squadra delle autostrade che partecipa al Giro d'Italia con la bicicletta elettrica che è una delle modalità che ci consentirà di avere una mobilità sostenibile nel futuro. Siamo pronti, siamo carichi e forza Free2X, non molliamo mai! La squadra delle autostrade Ci sono stati un sulseguirsi di grandissime emozioni alla Varone, una volata bellissima ha portato i nostri colori, le nostre maglie nel gradino più alto Grande gruppo e soprattutto un grande leader È stata una bella esperienza Molto, molto bello!